Cosa cambierebbe se le batterie utilizzassero corrente alternata? L'uso di corrente alternata nelle batterie influenzerebbe significativamente il loro funzionamento e design. Questo potrebbe comportare modifiche nella gestione del calore, nella durata della batteria e nella complessità del sistema di gestione della batteria. L'implementazione di corrente alternata richiederebbe metodi di caratterizzazione specifici e attrezzature di misurazione accurate per analizzare gli effetti delle correnti alternate sulle batterie. Quale voltaggio avrebbero le batterie a corrente alternata? Considerando diversi scenari ipotetici. Basso voltaggio, potrebbero essere progettate per operare a circa 24 V, utili per applicazioni domestiche o portatili. Voltaggio medio, potrebbero essere progettate per operare a circa 240 V, simile ai voltaggi domestici standard, utili per sistemi di backup o integrati agli impianti domestici. Alto voltaggio, potrebbero raggiungere fino a 1000 V o più, adatti per applicazioni industriali o per il trasporto di energia su lunghe distanze. Quanta frequenza in Hertz avrebbero rispetto ai trasformatori? La frequenza di una batteria a corrente alternata potrebbe variare ampiamente a seconda dell'applicazione e del design. Non esistono standard specifici come quelli per i trasformatori, che operano tipicamente a 50 Hz o 60 Hz. Le batterie a corrente alternata potrebbero teoricamente operare a frequenze molto più alte per applicazioni specifiche, utilizzando correnti alternate ad alta frequenza per migliorare le prestazioni in condizioni specifiche. Quanto peserebbero rispetto alle batterie a corrente continua? Il peso di una batteria a corrente alternata potrebbe non differire significativamente da quello di una batteria a corrente continua se consideriamo solo la chimica della batteria e la capacità di stoccaggio. Tuttavia, l'aggiunta di componenti necessari per gestire la corrente alternata, come inverter o convertitori, potrebbe influenzare il peso complessivo del sistema. In generale, le batterie a acquistare potrebbero essere leggermente meno efficienti e potrebbero richiedere componenti aggiuntivi che potrebbero aumentare il loro peso.